Se vuoi raggiungere dei risultati, devi lasciarti guidare e fidarti. In cosa? Molto semplice. Nella creazione di video, Reels ad alto livello, nei social, nel marketing online e offline, nel tuo piano editoriale. Se pensi che possa esserti davvero utile o vuoi lavorare con me, scrivimi in direct e sarò onorato di prenderti per mano e di poterti far raggiungere quel successo che davvero meriti.